Il CSF è formazione, lavoro, impegno, voglia di creare un mondo migliore fatto di persone che hanno delle competenze e che sanno spendere al meglio per creare non solo valore per se stessi ma anche un valore aggiunto agli altri che vengono a contatto con chi noi abbiamo formato. Grazie per la visione! Grazie per la visione!